Bentornato su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie di cuore. Continuamente è stato detto che questi migranti non potevano scendere. Invece potevano scendere. Ci siamo chiesti perché e la risposta ci è stata data da Oscar Camps. Oscar Camps, in un video che potete controllare, dice che alla fine erano felici, ma non perché sbarcavano, ma perché stava cadendo, anzi era caduto il ministro Salvini. Quindi era una battaglia, secondo loro, contro Salvini. Per questo è un processo politico? È un processo politico nel momento in cui si dice che in realtà la gioia di Open Arms è la caduta di Salvini, che è un uomo politico. Ma la calata dei leghisti, così tanti oggi, insomma, non abbellendo il clima in realtà. Guardi, il clima in quest'aula, come avete visto, è stato un clima di rispetto. Io ho totale rispetto per la magistratura. Non ci sarà mai da parte mia e della mia difesa una parola fuori posto e non c'è stata né risultare meno in piazza. Manifestare solidarietà mi sembra soltanto un fatto di voglia da parte di alcuni rappresentanti del partito e dei parlamentari di stare vicini a Salvini. L'ultima, lei ha detto che erano state offerte più possibilità per fare sbarcare i migranti. Secondo Open Arms voleva andare soltanto a Lampedusa e quali altre possibilità erano state offerte? Era stata offerta da parte di Malta la possibilità di fare sbarcare 39 migranti ed è stata rifiutata. È stata offerta da parte dell'Italia la possibilità di fare smarcare i migranti con motivazioni banali, cioè attestando un semplice disagio ed è stato rifiutato. È stato offerto da parte della Spagna un post ad Algeciras ed è stato rifiutato. È stato offerto un post a Palma di Mallorca ed è stato rifiutato. Quindi questi sono rifiuti.